Accessaio 2023 del Conca espone Dinamica, una nuova tecnologia tridimensionale che ci permette di annullare ogni differenza fra prodotti ceramici e materiali esistenti in natura. Dinamica è una tecnologia che abbiamo interamente sviluppato in azienda in due anni di lavoro. Grazie a Dinamica noi riusciamo a replicare le grafiche di ogni prodotto naturale e anche le strutture. Quindi andiamo a combinare perfettamente grafica e struttura in una sincronia sostanzialmente perfetta. Per realizzare questo tipo di prodotto è anche necessario un grande investimento tecnologico. Il gruppo del Conca si è dotata di un impianto a grandissima capacità produttiva, un nuovo forno che è hydrogen ready, significa che è pronto a produrre idrogeno quando questa tecnologia sarà disponibile. Questo ci permette di replicare prodotti naturali ma evitando di scavare delle montagne e avendo un maggior rispetto verso la natura. Con Dinamica presentiamo Marble Edition, una collazione di quattro marmi, ognuna di quali replica perfettamente un marmo reale che abbiamo trovato in natura. Abbiamo un Van Gogh White, una breccia capraia, un invisible grey e un onice verde. Per realizzare i prodotti unici come Marble Edition è sicuramente importante il know-how che abbiamo sviluppato in tanti anni di ricerca, quindi l'intervento delle persone fa sicuramente la differenza.